Ciao ragazzi, ciao a tutti, seconda puntata, seconda puntata, piscello, piscello, sembra funzionare bene il microfono, si vediamo tutto, siamo pronti a stappare le prime bottiglie, vai, ma qui stiamo già registrando pronto al caricamento questa cosa qui? bene abbiamo stappato la prima bottiglia, oggi, oggi, come diceva l'altra volta, come abbiamo detto nella prima puntata pilota, faremo un bellissimo test alla cieca di due vini, che vini sono Lollo? Allora, faremo un test di due Chianti classico, di OCG, si? Tutti e due 2017? Tutti e due è nata 2017, uno preso in GDO, quindi dal supermercato, se lo vogliamo chiamare così, e quell'altro invece preso in Enoteca, insomma, un vino che ha vinto dei premi, un vino che ha vinto dei premi, esatto. Il nostro obiettivo qual è? Il nostro obiettivo è capire quale dei due fa più schifo, perché si sa che chiaramente i vini toscani fanno tutti cagare, a parte qualcuno, no? Sto scherzando, però mi ricordo cosa diceva, ti ricordi Cingolani quando diceva che in Toscana bisogna andarci solo per bere i rossi, perché i toscani non sanno fare i vini bianchi, infatti non ce li hanno i vini bianchi, c'è una vernazzola di San Gimignano, che fa 16.000 gradi, è fatta giusto per scoraggiare male il giorno dopo, perché dovevano fare un bianco, perché sennò dai, non suonava bene. Beh sulla costa fanno anche l'ansonica, che sarebbe l'insoglia, il vermentino, però dai ascolta, con un brunello mi vado a bere, cioè se ho il brunello vado a bermi. Eh ho capito, magari come aperitivo non bevo un brunello da 15 gradi. Preferisco il bermi un verdicchio... Ma quello 100 volte nella vita, o un incrocio bruni di cui vi parleremo più avanti, nelle prossime, negli prossimi episodi. Puntades. Sembravo quello che presenta... Nelle puntate precedenti. To be continued. Allora adesso stiamo aspettando, stiamo aspettando Martina, la nostra valletta, che porta il primo campione dei due. Abbiamo questi due vini quindi, ma prima di cominciare mi pulisco la bocca con un po' di coca cola. Ok, don't try this at home. Spero che mi venga a fare un bel rutto, così potrò farlo. Bene, il primo campione, eccolo qua. Noi ovviamente non sappiamo che vino c'è qui dentro, non sappiamo cosa ha messo Martina in questo bicchiere, ha messo del vino sicuramente. Sì, sempre di sì. Io, no, non la sparo subito grossa perché sennò poi dopo rischia di fare delle figure di merda. Però questo, questo vino è molto scarico. È il classico colore da Sangiovese proprio, no? Sì, però oddio, più Sangiovese dell'est Italia, cioè di solito in Toscana vengono un po' più carichi, no? Ma no, ma chianti di questo carico colorante di solito non ce ne sono tanti, più il Torgiano viene più carico di colori, no? Che viene fatto. Ti ricordi quando abbiamo assaggiato il Vigna, Vigna Amato, cos'era? Di Lungarotti? Vigna, come cavolo era? Vigna Ciccio Baudo. Vabbè, quello che vince un sacco di premi. Quello che vince un sacco di premi! Comunque... Comunque, vabbè, procediamo a sentire un po', sentire un po' questo vino. E il colore, appunto, come dicevamo, è abbastanza scarico. Un bel rosso rubino, direi. Sì. Sì. Considerando l'annata 2017, poi con tutte le considerazioni del caso. Un po' di granato. Sì, ha una leggera unghia granata, però è molto scarico. Questo mi fa pensare a una cosa che però appunto non devo dire, perché poi dopo mi sbilancio troppo. Che si è anacquato. E faccio le figure di merda. No, anacquato no. Com'è? Come sono questi odori, questi profumi? Ma... Non lo so. È molto... Si sente molto legno. Cioè, si sente l'invadenza del legno. Non ha questi profumi, questa intensità che mi aspetto da un anti-classico, poi del 2017, caldo. Quindi mi aspetta proprio tanta intensità al naso. Io sento tanto alcol e tanti terziari. Quindi i terziari sono tutti quelli che riguardano l'affinamento in botte. Quei profumi terziari sono quindi quelli conferiti dal legno. La vaniglia, le spezie, il tabacco, il cioccolato, il piscello. Tutti questi qua sono tutti aromi che vengono, profumi che vengono dati dal legno. Si, ma poi ha una nota anche smaltata. Una nota smaltata che fa pensare, esatto, che non ci sia polpa, che non ci sia frutto, ma che sia solo uno sciroppo. E quindi adesso lo dico, che secondo me io già azzarderei a dire che è questo quello della GDO. Io non lo dico. Io lo dico. Va bene. perché mi sembra qualitativamente troppo basso per per essere un dici, dai. Dopo non faremo nomi perché sennò ci denuncia l'azienda ovviamente. Soprattutto se io ho detto una cazzata e questo è quello che mi dico. No, no. Io dico tutto quello che è un'opinione, un'opinione di due super sommelier. Scusa. Di In Vino Veritas. Anche in bocca poco. Sparisce subito. Si sente tantissimo l'alcol. Acidità zero. Questo è proprio un vino... Un vino piatto, cazzo. Questo è un vino da commercio estero, di brutto. Poco tannino, poco acidità. Ma poi da un Chianti non riserva io non riesco ad aspettarmi un tannino così già... Già levigato. Poi ripeto per la cento quarantesima volta. 2017 che non è stata un'annata proprio facile, facile, facile insomma. No, comunque anche io dico che secondo me questo qua è quello da GDO. Io spero. Si hanno dato dei premi a un vino così e qualcuno ha sbagliato. Qualcuno ha proprio... Qualcuno ha le marchette grosse. Come mi piace dire quel cazzo che mi pare così. Ma sì, sì. Ma perché non è vero? Lo sappiamo com'è il mondo del vino, no? Lo sappiamo com'è il mondo. Del vino. No, il mondo. No, del vino. Tanto lo sanno anche i produttori, no? E anche voi ascoltatori lo dovete sapere. È così che funziona. Spesso. Sì, spesso. Dopo per carità si trovano anche grandissimi prodotti premiati, gente che ha tanta storia, sicuramente. Però diciamo che purtroppo spesso capita che se una rivista X che dai punteggi la aprite, trovate che quelli che hanno i punteggi più alti sono anche quelli che sponsorizzano le pagine. Guarda caso! Guarda caso! Incredibile! Succedono anche queste cose, quindi un po' al dubbio viene, però adesso non è che uno deve dire che è tutto male, per carità. Ci apprestiamo ad assaggiare il secondo vino, che non sappiamo, ripetiamo, non sappiamo assolutamente che vino sia, non sappiamo assolutamente che vino sta versando, sappiamo solo che sta versando del vino, la nostra Valletta, la nostra Martino. Martino? Comunque... Nel frattempo... Nel frattempo cosa diciamo? Ma nel frattempo... Che poi tornando al discorso delle guide, no? Se uno potrebbe... Appunto per quello che dico sappiamo... Guarda che colore che sa questo, dai! Lo vedi che è diverso! È arrivato il secondo, è arrivato il secondo! Lo vedi che è diverso, lo vedi che ha più... Tenere, tenere! Sì, però vedi? Comunque il Sangiovese mantiene la sua... rimane sempre un po' scarico. Sì, un po', ma non come quello, dai, lo vedi? Questo è bello! Questo è bello potente come colore! Si vede subito cazzarola! Sì, e poi è molto più... C'ha anche il... è proprio brillante il... no, non è brillante, è cristallino, ma è molto più vivace, no? Il colore che ha! Quindi, quando vediamo un colore più vivace, significa che abbiamo più acidità! Probabilmente! E colore, sì, sì, fantastico! Questo è rubino! Certo che non è come un Sangiovese di Romagna, cazzo! Io devo ancora trovare un produttore che sa fare bene il Sangiovese di Romagna! Io l'ho trovato un paio, eh! Ma quelli che mi hai detto che... Sì, sì, quello lì, quello... Poi poi ne parleremo! Sì! Bene! Io mi gioco già che questo qua è quello... è quello... Questo è legato! Cioè, il naso non è intenso! Neanche questo! Però, cioè, senti che c'è una certa finezza di profumi, un certo... una certa linea di pensiero, cioè, insomma, subito si sentono i fiori... Sì, esatto! Una rosa... Cioè, ha un... un che? Scusa, mi chiami rosa di là? Viola... Oh, sono troppo simpatico! Snasne! Poi, per carità, anche qui sentiamo dei terziari, però sono in... Sono ben incorporati in tutti gli altri profumi! Non abbiamo... Prima sentivamo solo l'invadenza del legno, quindi sentivi la vaniglia, sentivi quelle due o tre spezie un po' più dolciastre e fine! Vero, vero! Sono d'accordo! E invece, la prima cosa che io sento, personalmente, è il fiore! Infatti, è molto interessante! È un fiore un po' appassito, però, no? Non è proprio un fiore fresco, fresco! È una rosa appassita, sì! Una rosa un po' appassita! E poi si comincia a sentire... Adesso arriva anche della frutta! È un po' di frutti neri, frutti neri, frutti rossi... Molto delicati! Molto delicati, esatto, è vero! E ogni tanto arriva qualche ventata di speziature, qualche speziatura... Qualche ventata di speziature, direi anche qualche nota di bassa amicità... Mamma mia, oggi siamo troppo professionali! Diciamo troppo qualche parolacce! Vabbè, adesso abbiamo appena iniziato! Ah, ok! Sciogli! Sciogli un po'! Perché tra un po' dobbiamo cominciare a insultare tutti, quindi... È vero! Allora? Eh, cazzo! Sì? Eh, questo ha corpo! Questo c'è! Questo c'è! Mmm! Questo in bocca entra bello potente, ha un bel tannino, levigato, devo dire la verità! In bocca entra bello potente, eh! Ti piace quando entra in bocca potente? Che coglione! Cioè, però ha un tannino ben levigato che... Quasi! Forse è un buon uso del legno, ecco! Sì, però avrebbe bisogno magari di ammorbidirsi ancora un pochettino! Sì, dopo bisogna vedere se ci riuscirà, perché è un po' polveroso comunque come tannino, quindi forse è proprio l'annata che non ti ha permesso un'evoluzione polifenolica! Polifenolica! Anzi, no, evoluzione! Maturazione! Fenolica! Corretta! Sì, ma stiamo andando un po' troppo... Sì, no! Stiamo diventando troppo professionale! Adesso basta! Ce ne sono anche troppe che dicono tutte stronzate! Vabbè, se devo dare una spiegazione del perché secondo me questo è un vino premiato e quell'altro no! Ma perché tu sei quello bravo, io sono quello invece che non ci capisce un cazzo! Ma che bravo! Ma che bravo! Non devo più un cazzo! Sono una dieta da una vita! Mmm! Ok! Mmm! Ecco, questo vino si abbinerebbe bene questo tannino con due belle fette di culo! Però, in realtà, no! L'importante è che siano belle unte! Se c'è untuosità, questo tannino qui come una spatola sui denti vi tira via tutto! Oh no! In verità il tannino va con la succulenza però! Tutte e due! Sì, no! Sia untuosità più acidità perché l'untuosità ti si attacca alla bocca! Quindi l'acidità ti fa schiumare! L'alcol cosa fa invece? Come un cane rabbioso! L'alcol asciuga! E quindi? Va con? Asciuga! Con? Quindi va con la? Succulenza! 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 Ai ai ai! Non mi picchiare! Non mi picchiare! No! La violenza! Sui bambini! Oh! Comunque! Marti! Mi sa che è ora di dare il verdetto! No! Aspera dai! Diamo due punteggi! Dai! Diamo due punteggi! Beh! All'altro gli do 75! Perché era scarico, era vuoto, piatto su tutto! 75 gli do! Per essere buoni! 78! 78 dai! Ma questo? Eh! Questo gli posso dare un... Io sarei andato anche sull'88 dai! Un paio di punti in più gliel'avrei dati! Io 86 per adesso perché ancora c'è questo tannino molto molto prepotente secondo me! Che io non... Eh! Ma ti ripeto secondo me è frutto dell'annata perché polveroso non ha... non è un tannino che ti dà l'idea che potrà svilupparsi, potrà migliorare, si potrà levigare... Beh! Io sento che c'è polpa nel... Sento che c'è polpa nel vino significa che questi aromi potranno evolvere... Sento che c'è acidità e quindi sento che... Ma neanche troppo eh! No! Il giusto! Quello che deve averne! Comunque per essere un Sangiovese c'ha la sua acidità! Si si! C'ha freschezza! Magari non diventerà mai un tannino vellutatissimo... Però... Si potrà ammorbidire nel tempo anche perché altrimenti cazzo... Uno si deve solo così si deve mangiare delle fette di lardo in bocca... Si deve mettere delle fette di lardo in bocca... Eh vabbè Tommy... Cioè... Quello che... Che dicevo in una serata da Rossetti che poi mi hanno obbligato a fare delle degustazioni in pubblico... Da Tiziano Rossetti a Orbino... E' uno chef molto bravo che vi consiglio di andare a trovare a Orbino all'angolo di vino... Ex professore dell'alma... Un personaggio molto carismatico... Si! E... E una sera mi è capitato appunto di fare una degustazione e mi hanno intrappolato... In una serata che io non c'entravo niente... E... Non mi ricordo cosa volevo dire... No! Dicevo... Cioè... Grazie a Dio che ci sono anche le annate e voglio dire che... E' giusto che poi un'annata non abbia un potenziale... Non abbia potenziale... Sarebbe... Sbagliato il contrario secondo me... Cioè se nelle annate più sfigate tu riesci comunque a darmi un prodotto eccellente... E perfetto ed equilibrato... Ovviamente a me mi viene il dubbio che tu fai delle pratiche troppo invasive sul vino... Ah certo! Mentre se tu invece rispetti il frutto che ti ha dato la vigna... E se l'annata è stata di merda il vino viene un po' più... Cioè non posso pretendere da questo che magari abbia lo stesso equilibrio e lo stesso futuro di un Chianti del 2016... Che invece è stata un'annata eccezionale... Sì potrei essere d'accordo... Quindi non è che ti dici ci devi mettere fette di lardo... E' semplicemente riconoscere che è stata un'annata meno fortunata... E di conseguenza... E lo so... Avrai un tannino più polveroso in bocca... Se io devo abituarmi a bere qualcosa che è estremamente tannico... Vuol dire che lo devo abbinare con qualcosa che mi permette di berlo... Perché dopo un po' le gengive mi vanno a coprire la testa... E i denti mi cadono... Ma è il motivo per... Divento come un nostro amico professore... No si fanno i nomi... L'uomo con i denti neri... Il nostro English for Wine... Per chi lo conosce non potremmo dire il nome... Comunque le sue iniziali sono... Le sue iniziali sono... Sono su tutte le riviste di Sommelier Marche... Tutti gli articoli della rivista Sommelier Marche... E qui ci siamo giocati tutto... Per il futuro se lo siamo giocati... Allora ragazzi diamo il verdetto? Certo! Allora... Questo era il primo... E questo era il secondo... Ma che cazzo dici? Sto scherzando... Nooo... Stavo cagando addosso il tipo... Cioè ci siamo fatto una cazzata così... Uno e due... Allora abbiamo il primo vino che è un Chianti Classico Montostoli... Prodotto in Italia... Ci mancherebbe altro... Con la bella fascetta della DOCG... Chiaramente che... Mostra che il vino è stato prodotto... In un'azienda... Che fa parte del consorzio Chianti Classico Gallo Nero... Che però... In inglese... Black Coke... Che però ecco... Infatti questo potrebbe essere uno spunto anche per far notare anche a chi è meno avvezzo al mondo del vino... Che non è che la fascetta della DOCG garantisce che il prodotto è buono... Aspetta questo qui ne parliamo dopo... Noo beh però... Mi collegavo perché l'hai detto adesso... Dopo mi dimenticavo perché c'ho... Eh no... Dopo dopo continuiamo... Questo vino è stato comprato al prezzo di 4 euro e 50... 4,49... Se ricordo bene... Comunque intorno ai 5 euro diciamo... E secondo me è troppo... All'Eurospin... Ok? E secondo me è troppo perché non... Cioè... Obiettivamente a quelle cifre si trova qualcosa di meglio... A voglia... Ma piuttosto finisco in un bag in box... Ma trovo qualcosa di molto meglio... A voglia... Ma scusa... Se tu prendi tutti quei vini bag in box... O il vino sfuso che abbiamo preso giù in cantina... In una famosa cantina di Monte Urano... Di cui poi... Dovremmo fare una degustazione buonissima di vini rossi, bianchi e rosè... E adesso non possiamo dire nulla... No... Ti stava prendendo un infarto però per dirlo... Già quello... Ah tipo quello a 3 euro al litro... In sfuso... Gli Ettoliter ne bevi... Gli Ettoliter veramente... E quindi occhio alle fascette di OCG... Perché spesso celano un prezzo più alto per un prodotto più scarso... No spesso... Fortunatamente non spesso... Però diciamo che... In supermercato se non sapete scegliere... Rischiate di trovare una brutta... La merda insomma... Trovate la merda... E pagarla troppo... E pagarla troppo... Perché per esempio... Il secondo vino invece... È... Un Chianti Classico... Della stessa annata 2017... San Giusto a Rentennano... Ok... Costo approssimativo sui 16... 15... 16 euro... Quindi circa 3 volte il prezzo della bottiglia precedente... Della bottiglia numero 1... Un'altra azienda vedo che lavora in biologico... E quindi comunque ha... Anche delle spese... Ma anche delle spese più alte... Sì assolutamente sì... C'è anche questo da dire... Un vino... Fatto in quantità... Come il primo... Ovviamente riesce ad abbattere i costi... Perché ne fai molto di più... E hai delle lavorazioni molto più semplici... Molte più meccanizzate... Chi invece lavora in biologico... Ovviamente ha delle lavorazioni... Più limitate... Più ristrette... Di conseguenza... Il prezzo è necessariamente... Leggermente più alto... Per forza... Perché tanto ha altre lavorazioni... Più complicate... Però con un vino... Comunque da 3 volte il prezzo del vino precedente... Il vino numero 1... Hai un'esperienza di degustazione... O comunque un'esperienza di ubriacatura... Che è mille volte... No... Almeno 10 volte migliore... Decisa... No ma è proprio... Non c'è un... È difficile fare un paragone... Perché su questo... 14-15 euro... Se li spendi volentieri... Perché è buono... Ti lascia contento... Ti lascia soddisfatto... Su quel lato 5 euro no... Perché ho speso... Ho buttato via 5 euro... Hai buttato via 5 euro... Il vino non vale un cazzo di niente... Eh... È proprio questo il fatto... È proprio questo il fatto... È proprio questo il fatto... Però sono felice... Perché già dal bicchiere... Avevo intuito che era quello... Eh sì... Sono forte ragazzi... So forte... Ragazzi... Sono fortissimo... Se mi volete anche fare le promozioni per i vostri vini... Mi pagate un sacco di soldi... Però sono fortissimo... Anch'io eh... Posso dire anch'io? No certo... Inteso come in vino Veritas... Eh certo... Ovviamente... Che poi noi nella seconda puntata... Facciamo come la prima... Che poi abbiamo detto... Comunque... Ciao a tutti... Io sono Lorenzo... Lo diciamo dopo 20 minuti... Ah... Perché... Perché magari qualcuno non ha sentito la prima... Ah beh... Allora... Cazzi suoi... È sbagliato... Ascolta... Allora... Ascolta tu... Torna alla prima... Torna alla prima... Dove ci presentiamo... Che dopo 20 minuti... Ti diciamo anche come ci chiamiamo... Esatto... Comunque... Il discorso di OCG... È veramente importante... Anche molto lato... Marketing... Comunicazione... Perché c'è chi pensa... Pensate un po'... Come diceva Lorenzo... C'è chi pensa... Che... La qualità... Di un vino... Si possa distinguere... Dalla... Sua... Denominazione... E questa è la cazzata... Più grossa dell'universo... Proprio conosciuto... Capito... Proprio va... Va oltre... La nostra galassia... Probabilmente... Anche gli alieni... I guardiani della galassia... Guardiani della galassia... No... Stavo per cantare... Non cominciare a cantare... Stavo cantando la canzone... Non cominciare a cantare... La canzone... Uca-ciaca... Uca-ciaca... Lo sapevo... No... È una cazzata enorme... Perché... Volendo fare l'esempio... Più... Più semplice... La portata di chiunque... Perché chiunque... Ha sentito parlare di Sassicaia... Sassicaia... Inizialmente... Come tutti i Super Tascam... Sono usciti dalle... Dalle denominazioni... Proprio perché... Volevano... Togliersi... Da... Da una denominazione... Che non garantisce la qualità... Garantisce solo ed esclusivamente... Una zona... Quindi... Se io seguo determinate regole... Che sono molto molto semplici... Mi danno la DOC... E o la DOCG... Sicuramente la DOCG... È un po' più ristretta... Però... Non... Non garantisce la qualità... Cosa che invece in Francia... Garantiscono con i crew... All'interno della denominazione... Ma Crew Agency... Intendi la... Crew Agency... La grandissima... Famosissima... Agenzia di Food Marketing... Agenzia di Marketing... Di Tommaso Cattivelli... E Daniel Casarin... Tommaso Cattivelli che... Quanto a caso assomiglia... A lo stesso tipo che parlo adesso... Ah si? Perché ti sei allontanato... Mi fai capire? Perché... Ho messo via... La tua bottiglia in frigo... Perché sennò... Adesso... Si sente... Un cavolo... Bravo... Mie complimenti... È così che si fa un podcast... Complimenti... Vabbè ma noi lo facciamo così... Cioè... Comunque... La logica di un... Di un cavolo di denominazione... Dovrebbe essere quella di garantire anche uno standard qualitativo... Dove questo non avviene... Che cosa deve fare un'azienda per valorizzare... Il prodotto... Per far capire la differenza... Perché qui siamo di fronte a due prodotti che... Sull'etichetta possono essere identici... Perché entrambi sono del Chianti classico... Entrambi hanno il gallo nero... Entrambi hanno la fascetta di OCG... Quindi... Se io li metto di fianco a due persone che non hanno idea di cosa sia il vino... Per loro la stessa cosa... Uno costa 5 euro... Uno 15... Quindi io perché devo andare a prendere il culo da 15... Che costa tre volte... Fanno una valutazione... Possono fare una valutazione sull'etichetta... Che oggettivamente in questo caso è più bella... Del secondo... Di quello di San Giusto e Rentennano... Dobbiamo dirlo... Sì sicuramente... Però... È una valutazione che può essere altamente fuorviante... Perché basta... Basta pagare un designer bravo... E ecco che... Ecco esatto... L'etichetta bellissima... Esatto... Esatto... E questo è il concetto... Quindi... Le aziende devono cominciare a capire che devono comunicare quello che fanno... Perché se non lo fanno loro... Arriva il tizio Amazon di turno... O il tizio che... Che magari la grande azienda tipo Zonin... Tipo... Le grandissime aziende che hanno il capitale e hanno l'intelligenza di fare le cose... Questo tipo di cose... E... Vi sfancula tutti quanti... Ok... Questo qui è... Direttamente ai produttori... I produttori che si lamentano... Eeeh... Eeeh... I consorsi... L'Europa... L'Europa... Io sto con Salvini... Direbbe qualcuno... Io invece no... Non ci sto con Salvini... Tommaso sta degradando... Io adesso non parlo... Lo lascio sfogare 5 minuti... No... Questo podcast è esplicito... E dice le cose come stanno... In vino veritas... Scazzo... Giusto... Poi tra due bicchieri non parlo più... Quindi... Ancora più veritas... E quindi... Ragazzis... Allora... Ragazzis... In questo momento... Stiamo decidendo... Di nuovo... Che cosa sto dicendo? Non lo so cosa stai decidendo te in questo momento... Stavo decidendo... Non ero in pena di prendere decisioni importanti... No... Stavo cercando di capire quale potesse essere la prossima puntata... Ma in verità... Ancora di preciso... Non ci abbiamo pensato... Perché poi... Perché poi vengono un po' così... Cioè... Noi decidiamo un po' così... Probabilmente tra due tre bottiglie... Adesso... A un certo punto... Finiremo la registrazione... Ma noi non smetteremo di bere oggi... Assolutamente... Sappiatelo... Cioè... Importante... Perché poi... Come ci insegnava il buon... Alessio Cingolani... Professore dell'Aes... Bravissimo... Che ci ha insegnato la degustazione... Per imparare... Che è fissato con il Riesling della Mosella... Vini Design... Vabbè... Devi fargli pubblicità gratis... Però eh... No... Vabbè... Perché farei del Vini Design... No... Facciamo anche pubblicità gratis... Per... Per i rivenditori... E come ci ha sempliciato lui... Fondamentalmente... Per imparare... Il vino... Bisogna berlo... Non è che... Ci sono altre... Ma tu hai mai conosciuto... Un cazzo di sommelier? Guarda... Io ho conosciuto... Sommelier che mi dicono... No... Ma perché... Io vado... Bevo... Ma sputo... Ma... Ma che cazzo sputi? Ma che cazzo sputi? Eh... Quando... Quando ho dovuto imparare a sputare... E' stato veramente un dramma... Ma vaffanculo... Ma perché dove sputare? Ma pensa al produttore che si vede la bottiglia sputata davanti... Ma vaffanculo... Cioè... Ma il produttore almeno... Ma pensa a quelli che magari lavoravano anche in vigne... Perché il produttore magari... Spesso e volentieri... La vigna... La vigna ha poco... Per sputarlo... Ma pensa a quel contadino che si ha spaccato la schiena tutto l'anno... Per darti il vino e te lo sputi... Ma vaffa che cazzo sputi? Sì sì... Io intendo chi fa il lavoro... Però qualche puttana... Ma... Infatti piuttosto assaggiane meno... Infatti dovrebbe essere questo il mantra... Assaggiane meno... Ma per una questione di rispetto... Ma bevilo tutto... Ma per una questione di rispetto... Sì sì... Assolutamente... Che noi non abbiamo assolutamente avuto... Parlando malissimo del primo vino... Tra l'altro... Che però non credo sia fatto da contadini... No... Particolarmente insomma... Ma sì... Ma magari colgono l'uva anche i contadini... Sì no... Dobbiamo essere oggettivi... Quando una cosa non è buona... Non è buona... Punto... Ma non è che non è buona... Non... Secondo me non vale quel prezzo lì... Non vale quel prezzo... Poi se uno vuole un vinellino... Non è buono... Da pasto... A mezzogiorno può andare bene... Non è buona... Per me... Non è buona implica questo... Ho assaggiato un barbaresco del 93... Di Gaia una volta... Ci sono rimasto deluso... Sono rimasto deluso... Ma probabilmente perché la bottiglia... Ha avuto un invecchiamento... Che non era stato felice... Ha avuto uno sviluppo sbagliato... Esatto... Cresciuto a start... Ho detto sviluppo 57 volte... Già in... Sviluppare... In 28 minuti... Quindi... Mi piace proprio questa parola oggi... Oggi ce l'ho dentro... Lo sviluppo... Bravo... Mi sviluppo dall'interno... Sì... Cosa dica... C'è un black cock... Un gallonero... Comunque abbiamo scoperto che... Tra l'altro... Vi devo raccontare questa cosa... Che Tommaso aveva aperto la pagina del gallonero del consorzio... Perché voleva fare un intro serio... Dove parlava del consorzio... Poi dice le cazzate... Non ce la può fare dai... Non ce la può fare... Quindi... Tutti conoscono i Chianti... Chi è che non conosce i Chianti? Guarda... Secondo... Chianti è... L'Italia è fatta solo da Toscani... E Chianti... Chianti... Wow... Chianti... Ma gli americani che cazzo capiscono... Vabbè... Sarà qualcuno che capisce... Ma vaffanculo... Cioè... Sei proprio uno Zin fan... Ecco... Adesso voglio aprire questa polemica... Perché... L'ultima... Perché ormai siamo in via... Perché mi sta... No... Però la polemica non è l'ultima... Cioè... Finché non la chiudiamo... Vaffanculo... Hai un minuto e sette secondi da ora... Cioè... A me mi sta sul cazzo... Che il mercato globale del vino... Deba essere deciso da... Parker... Da sti stronzi americani... Che cazzo capiscono di vino sti stronzi americani... Ma che cazzo capiscono... Ma l'hanno mai vista una vigna sti coglioni? Secondo me no... E allora che cazzo... Cioè... Perché il mercato mondiale del vino... Deve essere deciso da sti imbecini... Perché Gaia deve essere diventato importante... Dopo che gli americani si sono accorti del barbaresco di Gaia... Perché cazzo di motivo... Perché cazzo di motivo... Perché noi come al solito non siamo capaci di valorizzarci... Cioè mi dicessi i francesi... Vabbè... Mi stanno nel cazzo... Perché tanto... Non conosci la storia che... C'è un odio storico tra l'Italia e la Francia... Quindi mi stanno nel cazzo a prescindere... Però... Sui vini... Non gli si può dire niente... E quindi dici... Oh... Se fossero loro... Che sono i primi che hanno inventato il mondo della sommellerie... Che sono i primi ad aver fatto i grandi vini... Poi siamo arrivati noi... Ok... Posso accettarlo... A mio malgrado... Ma perché cazzo di motivo... Gli americani che hanno iniziato a fare delle marmellate di merda... In Napa Valley da dieci anni... Perché cazzo di motivo... Loro devono decidere che cos'è il mercato del vino... Perché loro hanno capito... Non avendo niente... Perché è un classico... Come quando io vengo qua... E valorizzo le cose che... Che le persone normali non... Vedono tutti i giorni... Perché abitano qua... Loro trovano delle cose che per noi sono sempre sotto al naso... Ok... Per noi sono sempre sotto al naso... Esatto... E loro le riescono a valorizzare... Sai la storia no? Dell'inglese che ha... Che ha praticamente... Reso noto l'amarone... Che per un Veneto sarà stato l'amaron... Perché... Perché non era diventato Reciotto... Aveva... Non era dolce... E loro hanno detto... Questo qua fa schifo... Non facciamolo bere a nessuno... Perché non ci piace... Probabilmente è per quello... Capito? È per quello... Con questo... Non significa che noi non possiamo cambiare però... Giusto? Ma magari... Ma il problema è il mondo che non c'è... Convincere il mondo a capire che... Parker è un coglione dai... Cioè... Suckling... Ma chi cazzo... Si chiama Suckling... Dai... Suckling... Dai... Dai... Suckling si chiama... Gallo Nero a Black Cock... Suckling... Black Cock... Cioè... È una barzelletta dai... Sta puntata è... Tremendamente esplicita... E ancora siamo alla seconda... Cioè... Boh... Secondo me... Anderai in grado... Secondo me... Beccheremo delle denunce... Conoscete i buoni avocati Tommy? Sì sì... Tutti... Avocazzi... Ah... L'importante è quello... Sì... Perché probabilmente ne avremo bisogno ecco... Ascolta un attimo... Con l'augurio di migliorare... Visto che siamo già fuori tempo limite... Con l'augurio di migliorare nella nostra comunicazione perché non c'è altro paese se non... Nel quale non avrei voluto nascere se non l'Italia... Vi lasciamo... Amici della salsiccia... Del black coke... E bevete i chianti... Ogni tanto... Però quello buono ragazzi... Non... Vi raccomando eh... Ok... Ciao amici... Ciao belli... Sì... Così... Grazie a tutti.